Sempre più spesso l'arte si abbina alla tecnologia, questa volta però si allarga pure al rispetto delle normative anti-covid e quanto accade da venerdì scorso al Centro Arti Visive Pescheria che ospita una mostra apprezzabile dall'esterno e non dall'interno del museo. Chi transita su Via Cavour può infatti gustarsi la foto installazione di Urban Art realizzata da Adriano Gamberini, fotoreporter marchigiano che attraverso la mostra dal titolo Lo stupore dentro trasmette una emozionante esperienza di sensazioni umane e di ambientazioni suggestive. È una mostra completamente diversa dalle solite mostre che siamo abituati a vedere e che ho sempre presentato in un certo modo. Mi hanno prospettato quest'ipotesi qui di mostra che all'inizio mi ha lasciato abbastanza perplesso perché non capivo bene come realizzarla ma in realtà adesso che è quasi installata completamente secondo me è stupenda, è un'idea bellissima che consente di vedere tranquillamente in sicurezza la mostra dall'esterno con queste proiezioni che vanno dall'interno verso l'esterno. Il titolo stesso Lo stupore dentro e lo stupore nel vedere delle cose all'esterno che non siamo abituati vuol dire. Lo stupore dentro mi sembra adatto anche per questa mostra. Il soggetto delle proiezioni qual è? Io sostanzialmente fotografo all'essere umano, mi incuriosisce, mi affascina sempre. Questa mostra in maniera particolare però ho portato anche delle foto di paesaggi, oddio, che non sono proprio paesaggi, sono delle essenze di paesaggio, degli estratti di paesaggio che mi sembrano particolarmente adatti in questa circostanza. È un'esperienza particolare perché abbiamo, tra virgolette, lottato per realizzare questa mostra con tutte le normative anti-covid di sicurezza e di igiene sanitaria che ci sono in questo momento a causa della pandemia. Abbiamo pensato di realizzare una mostra tutta al digitale ed esclusivamente visibile dall'esterno, quindi c'è tutto il porticato della pescheria che sarà visibile solo ed esclusivamente da fuori in tutta sicurezza. Grazie.